prima di iniziare con il video volevo consigliarvi il canale di guadagnare online davvero è un telegram che mi permette di generare entrate extra mensili a partire da investimenti bassissimi non si diventa milionario ma va sempre comodo vi lascio il link nella descrizione del video nel commento messo in evidenza ditevi che quando io che vi fanno anche un regalo tony f ha comprato un porsche come dice lui stesso un porsche gts dal valore di più di 150 mila euro ma non ha fatto in tempo neanche a mostrarlo in un tiktok che subito qualcuno ha capito di chi era la macchina e gli è andato fondamentalmente a rigare la facciata facendo un danno non da poco visto che sarà una roba come 20 mila euro di danni e toni chiaramente incazzato nero si è sfocato sul suo instagram non aggiungo altro ma vi lascio filmati fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio dando ordini una pizza sul just it ti arriva anche a yan gts eccoci qua subito seccata al top direi